Ciao ragazzi, poi arriviamo, finiamo di fare le scartoffie là e poi arriviamo. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, poi arriviamo, finiamo di fare le scartoffie. Iniziamo di fare le scartoffie là e poi arriviamo. Sì, sì. E qui sono scartoffie? Sì. Sì. E qui è blu, qui è blu. Sì. 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 Partito e partito. Sì. 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 Sì.